L'Aquila non può farsi sfuggire l'occasione di ospitare i mondiali di atletica leggera. Così Gianni Lolli, presidente del comitato organizzatore del 23esimo World Master Championship. Ormai si è alla fase finale della candidatura della città dell'Aquila per i mondiali master di atletica leggera del 2022. Domani intanto c'è un'importante riunione, convocata dal consigliere Pierpaolo Petrucci, un incontro urgente con il sindaco, l'assessore allo sport, il vicepresidente dell'Aggiunta regionale Giovanni Lolli e l'assessore allo sport della regione Silvio Paolucci, ma anche il presidente Coni, presidente Fidal e presidente della provincia Caruso. Devo ringraziare enormemente il consigliere Pierpaolo Petrucci che ha indetto una riunione urgente con tutte le autorità, compreso il comune, per discutere il da farsi durante questa visita, che è estremamente importante per la città dell'Aquila e per il proseguire della decisione finale nella votazione che avverrà a settembre. Con grande difficoltà, devo dire, e sto portando avanti questo discorso, avrei avuto piacere molto di più di una partecipazione più vive da parte del comune che nella prima fase il sindaco Biondi ha dato la sua disponibilità, ma credo che oppresso anche dalle altre problematiche che segue la città non ha potuto mai partecipare in modo diretto alle altre riunioni. Qui si parla anche di un problema economico non grande, perché noi ci siamo assunti la responsabilità economica nella prima fase dove il comune diceva di non avere soldi, poi stranamente questi soldi vengono usati per altre cose. Per cui devono essere chiari loro se vogliono o non vogliono fare i campionati del mondo. La posizione del sindaco sarà focale per Gianni Lolli. Molte sono state le difficoltà. Dovrà garantire il proprio interesse con i relativi impegni che saranno discussi nelle riunioni. Oppure costringerà, ha detto Gianni Lolli, ad uno spostamento in un'altra città abruzzese per non perdere un'occasione molto importante che porterebbe un ritorno economico di circa 20 milioni di euro all'economia cittadina. Dovete pensare che la partecipazione di circa 9 mila atleti ad un campionato del mondo con indotto anche di altre persone che vengono familiari o amici per seguire le gare per cui basta un po' di intelligenza e un po' di capacità a fare il calcolo, diciamo anche a 70 euro al giorno ognuna di queste persone spendono, è facile sapere quanti soldi vengono per la città. Molti aspettano che uno deve investire sia il proprio denaro e questo l'abbiamo fatto e dobbiamo ringraziare, per arrivare a questa fase ci è voluto un impegno di quasi 30 mila euro solo per fare la candidatura e per essere ammessi. E in questo io devo riconoscere alla Fondazione Cassa di Risparmio, al suo presidente Marco Fanfani che è stata di un grandissimo supporto.